...quello che dà è l'aspetto del dolore e del dolore. Il dolore può trattare al corrente dell'Unione Acre, ma non si tratta di un formulato, porto a punto del futuro, e di un'unità. E' sempre un po' svolita con una persona che non ha detto che nessun dolore e nessun dolore, tanto a vettare il futuro Presidente e della puntuzione, dei seminari, per ciò che queste persone si non ci sono assi. Un giorno mi spiego, è un po' svolito, però in quanto le persone non ci sono riuscite, un po' svolito in un'azienda o che hanno chiesto di macroeconomia più, ma migliore. Ma non ci spiego una cosa, ma ci state di tutto, ma ci sono appassi di grande, in questa direzione. e nel caso di una ruota, ci sono qualcosa di suma importanza. Qualche sindicato può contribuire, può contribuire. E questo è il metodo. Come sindicato, ci sono una parte reale di gerenciare, ci sono una cosa che si usa positivamente, e non solo nella benestà di noi mesi, egoisticamente. Quindi noi mesi può essere una soluzione, una proporzione di creare contatto nella persona, logra il metto per la comunità in generale con la nostra città.